Dopo l'ente provincia, un caso di positività al coronavirus spunta anche in prefettura. Contagiata una dipendente, il marito della donna, ex viceprefetto Avellinese, e i due figli. La positività dell'intero nucleo familiare è emersa sabato scorso e il contagio risalirebbe a giovedì. Il figlio maggiore sarebbe un contatto diretto del suo coetaneo al centro del focolaio sviluppatosi attorno alla famiglia del funzionario della provincia. Dei quattro, solo il marito è ricoverato al Moscati in terapia preintensiva e le sue condizioni sono stabili. Immediatamente a Palazzo di Governo sono scattate le misure di profilassi. L'edificio è stato sanificato ed è partito lo screening a tappeto sui dipendenti. Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati su una ventina di loro, quelli che stanno lavorando in presenza. L'altro 50% continua da casa con lo smart working. In prefettura l'attività prosegue regolarmente in un clima prudente ma sereno. Ognuno lavora nel suo ufficio e sono limitati gli spostamenti e i contatti. Ieri, secondo giorno consecutivo con contagi in calo, si aspetta il bollettino odierno per capire se il trend continuerà la discesa o ci sarà una nuova impennata. Da quando è esploso il focolaio nel Serinese a inizio luglio sono 121 i contagiati in Irpinia, con il capoluogo che guida la graduatoria con 27 infetti. Per la maggior parte si tratta di asintomatici. In otto sono ricoverati nel reparto di malattie infettive del Moscati, dove peraltro non mancano lamentelle proteste per gli assembramenti nell'area del cup ticket. Dalla direzione fanno sapere che si sta definendo un accordo con Federpharma per consentire la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali e il pagamento del ticket nelle farmacie della provincia.